... ... ... ... ... ... ... Sam mi spieghi che cosa stai facendo? ... 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 Allora mi spieghi cosa stai facendo Ma come che sto facendo Mi sto preparando perché da 5 al 17 maggio Ricomincia The Best of Music al Teatro Nazionale Con la regina di Carapos E io devo essere preciso Preciso in co Che cosa fai nello spettacolo Ma come che cosa faccio nello spettacolo Te l'ho detto io fra primo e secondo atto Porto l'acqua e le patatine al pubblico E bisogna essere serio